In questo nuovissimo video oggi sono qui su Minecraft e non potremo toccare il verde quindi la terra qualunque cosa Ok allora c'è Mario qua per poi siamo riusciti a spawnare qua Mario fai attenzione allora con la testa tipo così possiamo toccare il verde Però se no no Ok tipo così si Dobbiamo fare attenzione pure quando ci muoviamo che ne so se sotto un blocco c'è della terra pure Dobbiamo fare attenzione Allora ci possiamo muovere così sempre facendo attenzione che non diventi normale Ok 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 Vabbè Mario allora io direi che per questa prima notte che andiamo un attimo sottoterra Vabbè rimaniamo qua Ok ciao ragazzi adesso passeremo la notte Adesso faccio un taglio bello buono Faccio timeset Vedremo E poi ci dobbiamo pure togliere un poco di fame perché se no credono che non è passato il tempo Però te lo togliere un po' ok Bene E' un po' per vedere che abbiamo troppo scato sotto terra Che non è un po' per vedere che abbiamo perso sotto LUT E' un po'他們 E' un po' per vedere che c'è un helicopter E' un risultato Non so Un po' per vedere che c'è una cosa Sottoterra Ma come proprio adesso che non doveva la carne non mi ha avvelenato Hai avvelenato ma era capito proprio adesso che non doveva essere la carne non mi abbia denomato allora non mi si togliono i cossotti c'ho fame non mi è sceso nemmeno un cossotto ma era non mi toglie nemmeno un cossotto sta fame non mi abbia denomato si è tolto un cossotto e mezzo ok ragazzi siamo tornati la fame è un po' arrivata però poco siamo riusciti a prendere questi ramascelli così almeno non li tocchiamo ok facciamo sempre più attenzione ok ragazzi ovviamente nemmeno i cactus queste cose qua ok e voi levate 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 ok ragazzi il server non so perchè lag abbiamo pagato 50 euro lag pure allora facciamo un ascia pure è importante la zappa che così possiamo mangiare qualcosa visto che non c'è la zappa visto che non credo se non c'è la zappa ma eh per esempio i pezzi dobbiamo ah ah visto ah sì c'ho eh solo una di sabbia ok ragazzi allora dobbiamo cercare di fare attenzione lo zappiamo ok lo abbiamo un po' zappato ah Mario ma la nostra salvezza è la zappa perchè così possiamo camminare oppure la pala perchè così possiamo parere capito? sì ok ragazzi facciamo una bella pala non avevo pensato allora ma la faccio tutti i sentieri ok ragazzi allora possiamo anche fare qua che così è un poco più facile eh è vero una pala la salvezza a me si è appena rotta ok ragazzi dobbiamo andare in miniera perchè così ma ora non la togliermo vabbè scusa dovremmo ma ci serve perché dobbiamo costarla ci serve non toccare all'erba con l'alito stacco si si non c'è della pietra c'è un affogato ok ok ragazzi ok ragazzi non c'è della pietra non c'è della pietra non c'è della pietra non c'è della pietra qua c'è quello si qua c'è un po' di stone però c'è un sacco di tempo per prenderla qua e poi dopo ci servirà un po' di cibo ok ok Mario ho trovato della stun per bene qua si più o meno del carbone e in partita il piccone e l'accia le pietra le pietra sono uguali sì ok allora la pala giusto e importante io la faccio in pietra ne faccio che è l'unica cosa che ci servirà ok torniamo dove stavamo prima per poco meno male che per poco che non ho toccato quell'erba ok andiamo un altro punto ok ragazzi lo scaviamo un altro poco ma non è cos'è sta cosa di terra tutta strana ma è la fortuna che abbiamo noi non mai visto vabbè ragazzi il video mi dispiace finisce qui ciao 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 ok ragazzi ho preso un altro po' di legno non so perchè sta un po' laggando però vabbè ok perfetto ok mario ho fatto un sacco di legno noi ce ne ho 28 hai fatto la crafting un po' di legna iniziamo a fare un'ascia perchè è la cosa più importante in qualche modo allora gli stick per fortuna qua ne sono mario avevi fatto il crafting table no l'avevo fatto solo che un creeper non si è esploso sopra ah vabbè la rifà iniziamo